Tutelare l'economia legale e le imprese rispettose delle regole, garantendo allo Stato, all'Unione Europea, alle regioni e agli enti locali il regolare afflusso ed il corretto impiego delle risorse destinate al benessere della collettività e al sostenimento delle politiche di sviluppo economico e sociale. E' questo l'obiettivo che ha guidato l'azione operativa della Guardia di Finanza nel 2015. L'attività investigativa conta 571 deleghe di indagine pervenute nell'anno dalla magistratura ordinaria e dalla Corte dei Conti, di cui circa 464 portate a conclusione. Ma per quanto riguarda più precisamente l'evasione e le frodi fiscali, anche di tipo organizzato, sono state concluse oltre 111 indagini di Polizia Giudiziaria, denunciati 166 soggetti responsabili di 156 reati fiscali, di cui il 70% riguarda gli illeciti più gravi di emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta, occultamento di documentazione contabile e indebita compensazione. In tale ambito sono stati individuati 106 soggetti che, pur avendo svolto attività produttive di reddito, sono risultati completamente sconosciuti al fisco e 35 datori di lavoro che hanno impiegato 64 lavoratori in nero e 56 lavoratori irregolari. Scoperti inoltre casi di illegittima percezione o richiesta di finanziamenti pubblici comunitari e nazionali per oltre 29 milioni di euro, con la denuncia all'autorità giudiziaria di 63 soggetti. Nell'ambito di 35 accertamenti svolti su delega della Corte dei Conti sono stati segnalati sprechi o irregolari gestioni di fondi pubblici che hanno cagionato danni patrimoniali allo Stato per 34.147.433 euro, segnalati alla magistratura contabile, 322 soggetti per connesse ipotesi di responsabilità errariale. Grazie a tutti.